Salve amici del Centro Meteo Italiano, andiamo a vedere nel dettaglio alcune zone colpite dai temporali delle prossime ore e le previsioni meteo per il weekend. La goccia fredda in transito sull'Italia porterà questo pomeriggio temporali molto intensi sui rilievi in estensione, anche sulle zone costiere e pianeggianti entro la serata. Da domani però il vortice depressionario tenderà ad allontanarsi verso est, con tempo più stabile e soleggiato per gran parte del weekend. Le temperature massime tenderanno a risalire fino a verso i 28 gradi, sia sulle regioni padane che al sud. Il rialzo invece sarà più lento per i valori minimi. Attenzione che nelle prime ore di domenica, quando un fronte freddo potrebbe transitare a nord-est, portando qualche temporale veloce acquazzone. Per tutti i dettagli vi invitiamo come sempre a seguire il nostro sito che è il nostro canale YouTube. Un saluto da parte del Centrometro Italiano.